Grandissima medaglia che arriva dal Mondiale di Atletica di Doha del 2019, la prima medaglia della nostra spedizione in Qatar, arriva con la marcia, con la 50 km di marcia, arriva a notte fonda con il bronzo straordinario della primatista europea Eleonora Giorgi, che non tradisce, visto che la bianzola alla fine era una delle probabili carte da medaglia per questa Italia in questa spedizione, e quindi, a differenza di altre spedizioni concluse in bianco, questa volta l'Italia si fa valire, questa volta l'Italia non tradisce, peccato che la 50 km di marcia non sia stata inserita nelle discipline olimpiche, perché nelle prossime olimpiadi di Tokyo, l'anno prossimo, ci sarà soltanto la 50 km maschile, quindi questo è un po' un peccato, però insomma, diciamo che Eleonora Giorgi intanto si va a regalare questa bellissima medaglia, nonostante la crisi che ha avuto praticamente ai 15 km dell'arrivo, al 35esimo km, dove si è fermata, ha rischiato di partire anche di intestino, quindi a quel punto si faceva difficile, invece dopo quella sosta, la Rovchuk, l'Ucraina, si era fatta molto più vicina, e invece alla fine la bianzola tiene duro, stringe i denti e riesce a mantenere quella terza piazza importantissima, a tenere dietro l'Ucraina, che si deve invece accontentare della medaglia di legno, davanti invece arrivano le inarrivabili cinesi, che detengono, mi sembra, anche il primato mondiale, la Rui prima, la Li seconda, insomma, loro veramente inarrivabili, però insomma, diciamo, Eleonora Giorgi la prima delle umane è stata in questa 50 km di marcia, quindi una medaglia importante, assolutamente, per dare anche una bella iniezione di fiducia in vista di questa spedizione, arriva presto dopo la finale di Filippo Tortu, conclusa comunque al settimo posto, nei 100 metri, vinti da Coleman, ieri sera, nei 100 metri con un tempo straordinario, 9,76, avvicinandosi diametralmente anche al record mondiale di Bolt, 9,58, quindi, insomma, diciamo, è un Coleman che si sta avvicinando anche al divino Usain, anche nei 100 metri, comunque, a parte ciò, l'Italia ha conquistato la sua prima medaglia, la sua seconda finale, appunto, dopo, comunque, un'ottima finale disputata da Tortu, perché l'obiettivo era quello di arrivare in finale, raggiungiamo l'obiettivo intanto di prenderci una medaglia, e ancora, il mondiale è a lungo, e abbiamo le nostre carte da giocarci, come, per esempio, Jimbo Thunberry. Fatemi sapere voi, nei commenti, che cosa invece ne pensate, lasciatelo davanti, se ne vi piace il video, condividete questo video, iscrivetevi al canale, se ancora non lo avete fatto, e a questo punto, arrivederci, ragazzi, e al prossimo video.